Che cosa? Paco che gioca a Snakefoot? Impossibile! Secondo me ti hanno pagato, Masuka! Boh, ci siamo di nuovo qui, con il mio team super potente e diamo un po' che condividi di esperienza qui. Ce l'ha, tumore, perfetto, direi di darlo a Asuka perché è rimasto un po' indietro rispetto agli altri, quindi... Ok, andiamo ad affrontare la... zombie. Battlezombie slash Wildly e blah blah blah, ok. E siamo contro Petra e mandare Electabuzz, ok. Fica. Mori. Ah, ok, questo qua è un battlezombie e non diventa un polvere quando li sconfigo, no, veramente. Perfetto, raccogliamo un po' di... bacche fanculo no cazzo vuoi no scusa ma mi asma madonna no sei inutile gur must inform master acquisto per qualcosa nc non non sarebbe flash che regalo di meta riusciano a pass muori 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 ok perfetto ho visto che sono intorno al livello 40 diretti un attimino perchè se non mi aprono il direttore quindi ci sentiamo dopo stai lontano questo non c'è una militare che palle la 6 io no 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 morì non morì bravissimo mio 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 no io Vai Si si bla 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 E ti chiamo Cushi Boobies Eri a Cushi chi Con pokemon snake food Vediamo un po' ho aggiunto boobies Alla squadra perchè volevo allenarlo E vedere se diventava un attimino potente Tengo per un po' Suka nel box perchè Penso sia più utile Questo al momento Vabbè comunque Brilum è il 42 Lavam è lo stesso Procione anche e tumore Tranne kissmi perchè sono razzista E andiamo avanti Gli zombie prendono il controller Che cazzo è quello E ci muore No 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 cortesia simpatia Muori Ma spiegatemi perchè degli zombie dovrebbero occupare No Dicevo spiegatemi perchè degli zombie dovrebbero occupare Un istituto meteo Siamo al tipo uno di quei film trash che recensisce Gli otobi Che ne so Lo chiameremo Meteo zombie E ecco E adesso andiamo ad affrontare Killua Ah ciao guida E' bello a perderti di nuovo Non ingonarmi gliss Non sei da mia parte Vero? Oh bla 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 E ecco Chi lo vuole lottare Manda hunter Oh E ci muori No Magana Sì Allora cazzano Procione Vediamo quanto mi togli Niente Ah sì E' vera foto proprio critico Perfetto E procione è a 43 Qui Si è un copione di fica Vabbè Dai Va bene Shockwave E' infallibile tanto Sì sì Lo continua così Nyeh 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 Se viper Vediamo un po' Che c'è un po' Va bene Andiamo procione E slash E slash Face leech Lecca faccia Ok è morto Ah 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 Mi hai sconfitto questa volta Suppongo che tu vuole qualche informazione Qualche verità Bene Non le troverai qui Bastardo Dragon egg Ah Su Quindi questo è il figlio di di Meteor Non sono solo un uovo Ah wow Ok può parlare Peppe Perfetto Sì Bla 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 Ciao Un po' Dove Quando Perché Co Ah Bene mi sono fatto tipo distruggere metà squadra Per un elisir Sì In questa puntata me li ritrovo tutti Tutti No 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 Ecco Mori Che cazzo Che è un altro metangue Sì 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 No 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 Ok No Aspetta La La pistol mucca Ma che cazzo è Pistol mucca Pistol gu Ma cosa No che cazzo succede qui No sense level over 9000 Quando un morto risorge Qui difende i vivi Ehm Hai il cesare ma perchè Vediamo un po' Che è l'ultimo Bla 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 Vabbè essere Asimov E infatti è Asimov Più pitato Allora Pongo pova Con la borsa di birby Yay Dammi la bacca al cedro Crocadio Yay Una ca Aspetta Ripeto Una casa Ciao sono Gabriella Quindi Ciao pochamabro con il dottor blackthorn Chi dovresti essere Sono Guida Ho visto Bla 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 Si ok sa che Tengo l'uovo di Meteor Aspetta Si Ehm Puoi sapere dove ti posso trovare Meteor Ehm Di andare a Estimostip Bla 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 No Basta Basta Marco Merrino Ti ho trovato finalmente Sì Eh Che cosa Oh Eh My friends will be there soon It's time to say who's the strongest Ok Tiffanger Run Mao No aspetta Cosa mi sono Che Che Cara Eppure mi sembra davvero Ho già visto da qualche parte questo qui Aspetta Aspetta Non era su un gioco del Game Boy Color Ehm Che 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 Ah Si devo ammettere che almeno questi spazi sono fatti meglio rispetto a quelli Visti prima Vediamo Che tipo è scusa Penso sei tipo roccia o te No no penso roccia per forza Vediamo Tipo roccia Rondan Sì Ma perchè 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 Con'è sto schifo Madonna E boom Ah Che cazzo vuoi Ehm Puoi parlare E certo che posso parlare Sono un po' come sono un den Ecco chi erano i denju Avete per il tipo pokemon Diamond version E jade version Per il Game Boy Color Quelli tipo Fake no In realtà non erano Cioè giochi pokemon Ma Giochi dei Questi denju Che dovrebbero essere Ehm Di mosse tipo simili Al brand dei pokemon Che pensi hanno usciti In contemporanea Ai morsi cascabili Un altro oshi Che palle Suka Aia Aia Suka No Suka No Suka Madonna Ehm Dopo questa gran cazzata Che ho visto adesso Questi due lunatici Direi di interrompere Quali gameplay Anche perchè tipo Mezz'ora che sto registrando Ci sentiamo la prossima volta ragazzi Lasciate un like Condividete Ciao belli Do Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS